Partiti prima corsa in programma, premio all'aerro sulla distanza di metri 1.500 riservata a puro sangue arabo di tre anni. Lotta alla sgabbiata per il comando della corsa dove la coppia di scuderia cabra ruspina e quercia di barbagia. All'interno si porta a condurre Quoziente de Matai Badru con il numero 6 quercia di barbagia in seconda posizione in terza Custu di Gallura mentre ha tardato alla sgabbiata il numero 8 cuore. Prima piegata affrontata al comando da Quoziente de Matai Badru in scia cabra ruspina, percorsi esterne Chesada che ha all'interno Custu di Gallura. Quel Doradu, il grigio cabra ruspina, metà della retta opposta dove attacca Custu di Gallura per portarsi al comando. Custu di Gallura con quercia di barbagia, i due in coppia. Chesada, Custu di Gallura, quercia di barbagia, questo è il terzetto che a metà della piegata conclusiva si propone con gli altri staccati. Chesada che si porta a condurre all'attacco esterno Custu di Gallura che ha all'interno quercia di barbagia, cavalli addirittura, attacco da parte di Custu di Gallura nei confronti del battistrada. Passa al comando Custu di Gallura, 200 conclusivi con il battistrada saldamente al comando, mentre progredisce cabra ruspina all'esterno con all'interno ancora Chesada. Facile la vittoria di Custu di Gallura che vede al secondo posto il numero 6 quercia di barbagia e il numero 7 Chesada in terza posizione. Non si attende all'ordine ufficiale.